Sono trascorsi tre mesi dalla chiusura della Galleria San Silvestro che collega Francavilla al mare a Pescara e intanto ancora nessuna risposta da ANAS. Di questo si è discusso in Consiglio Comunale attraverso un'interrogazione ad hoc presentata dal consigliere comunale di opposizione Roberto Angelucci. Domando cosa è stato fatto per chiedere ad ANAS la riparazione immediata dei danni provocati dalle piogge, si legge nel documento, mentre il sindaco russo dice di essere sola contro ANAS senza il sostegno della Regione e del Ministero. Le mie istanze sono state numerose, ho ricevuto una sola risposta dall'ANAS però senza indicazioni di tempi precisi e di cronoprogramma preciso né di quale tipo di opere intendano realizzare. Il problema persiste, a seguito di mie richieste ancora non ricevo risposte neanche sulla richiesta di gratuità del pedaggio autostradale che potrebbe snellire sicuramente il traffico sulla città oppure di incentivi o gratuità del trasporto pubblico locale, in particolare del treno che potrebbe da Francavilla a Pescara snellire il traffico ebbene mi trovo da sola a combattere contro l'ANAS senza il sostegno della Regione, del Ministero di Nessuno per avere risposte certe. Così anche Daniela Torto, deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle, che chiede quali iniziative intende intraprendere il Ministro Salvini per risolvere i problemi infrastrutturali e quali azioni porterà avanti per accertare le responsabilità. È normale, ha detto la pentastellata, che dopo tre mesi il Ministro dei Trasporti non abbia ancora un'idea su cosa fare. Vogliamo sapere quando la galleria riaprirà. Intanto Francavilla continua a subire problemi di ritardi per il traffico, di inquinamento atmosferico, inquinamento acustico e tanto tanto altro, con il rischio che se questa situazione si protrarrà fino all'estate e a questo punto comincio a temerlo, ci sarà un gravissimo danno economico per tutto il territorio. Ebbene, non mi resta che organizzare una protesta dei cittadini in piazza sotto gli uffici dell'ANAS.